adesso qua dovete fare un lavoro di grande fantasia allora, sembrano brillanti ma non sono brillanti e sono zirconi però sono montati su strutture d'argento e io ho detto che argento non ne compro più questi anelli me li ha prestati una mimica che è una bijuteria che li vende e me li ha prestati proprio per fare questi video perché no ai brillanti? immaginate che questi siano brillanti perché no ai brillanti? la maggior parte dei brillanti si trovano in Sud Africa e gli uomini devono scendere in miniera per lavorare 8-10 ore al giorno senza che vengano tutelati i loro diritti viene presa manovalanza autonoma del luogo e le grandi distribuzioni li pagano pochissimo neanche i diritti sindacali dopodichè la cosa che è scioccante a proposito dei brillanti che quando queste persone che hanno trovato i brillanti in miniera escono fuori vengono sottoposti a delle visite, a dei controlli che sono veramente così disumani così violenti e così aggressivi che uno dice ma io perché devo alimentare il commercio della tratta degli esseri umani? perché trattare brillanti è trattare in stato di schiavitù e ridurre in stato di schiavitù degli esseri umani e questo non va bene grazie a tutti grazie a tutti